Sto facendo il video. Va bene, siamo arrivati, ci abbiamo messo un'oretta e mezza, la Gui ha provato il Braulio per la prima volta, Urosh, lo dico solo io, bene così. Vai vai, spostiamoci. Basta, non so, lo s'altro gira, si si, sto girando, vai. Gira, gira. Giva, giva, giva. Giro, giro, è un altro paesaggio. Non so se si vede il lago. No, c'è una guenda. Esatto. Aspetta, 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 aspetta. Sì, ma cos'è ci segue la guenda? Around the world.